Ho sentito parlare dell'Imaie, ma che cos'è questo Imaie? L'Imaie è un ente importantissimo, è l'ente che raccoglie i compensi degli artisti interpreti e esecutori per alcune utilizzazioni secondarie, tipo musica d'ambiente, passaggi radiofranci televisivi o il compenso da coppia privata, che è il compenso che viene raccolto su quelle riproduzioni casalinghe che si fanno di dischi originali. Anche se l'artista non lo sa, non vi è scritto che l'Imaie raccoglie questi compensi e quindi è importante sempre che il proprio nome compaia nei dischi in cui si è suonato e poi farsi identificare da l'Imaie. Oggi l'Imaie è un ente che è in chiusura, in liquidazione, per cui fino al 14 luglio 2009 esisteva il vecchio Imaie in liquidazione. Da quel giorno in poi esiste il nuovo Imaie, che è l'ente al quale gli artisti andranno a richiedere questo compenso. Per cui ricordatevi sempre, uno, mettere il proprio nome nei dischi, secondo, rivolgersi al nuovo Imaie per avere questo compenso. Peraltro l'Imaie deve finanziare anche in un qualche modo l'attività degli artisti e quindi ha dei bandi per farlo, è meglio informarsi di questa cosa. Ringraziamo il dottore Andrea Marco Ricci di Note Legali per queste pillole, per tutte le informazioni visitate il sito www.notelegali.it Sì, questo è stato un primo esperimento, speriamo di continuare. Speriamo che le pillole diventino un bel pasto e a tutti voi buona musica. Buona musica.